Ciao amici di Music Off, qui Alberto Recchia da Associazione Music Up a Roma in compagnia di Ivan Omiciuolo di Prase per parlarci finalmente di un'assoluta novità che oggi vediamo qui in anteprima ovvero la nuova console di Casa Maidas Heritage D. In questa puntata ci occupiamo di dare un'occhiata a tutto ciò che abbiamo sotto gli occhi e sotto le mani quindi l'aspetto fisico, le connessioni fisiche, posteriori e tutto ciò che è il pannello di gestione sulla superficie di controllo. Iniziamo direttamente caro Ivan, direttamente sulla parte posteriore perché ci sono già da lì un paio di novità molto interessanti. Ciao Alberto, ciao amici di Music Off, spostiamoci subito sul pannello posteriore e vediamo le novità. Allora innanzitutto è chiaro che incominciamo con lo standard 8 in 8 out analogiche 4 in 4 out a SEBU le novità vere incominciano con due porte HDMI che consentono la replica dello schermo in questo caso dell'HDMI 2 e un'ulteriore possibile vista collegata a un monitor esterno delle porte USB che prevedono il collegamento di fader o controlli assegnabili esterni o appunto il controllo dal touchscreen per cui posso replicare esattamente le funzioni che ho sul touchscreen interno anche tramite un touchscreen esterno. La vera novità consiste in questa scheda che ospita due porte Ultranet per il collegamento tramite appunto il protocollo Ultranet a dispositivi Turbo Sound come ad esempio i monitor attivi Turbo o gli altoparlanti attivi ma soprattutto questi due slot che possono essere occupati da schede con diverse tipologie di protocolli ad esempio qui abbiamo una scheda Dante quindi con i 64 canali d'ingresso e 60 in uscita e in questo caso abbiamo montato un'ulteriore scheda AS50 che è il protocollo di trasporto Midas ma questo ci serve come conversione di frequenza di campionamento perché la console lavorano attivamente a 96 kHz in questo caso noi vogliamo avere un collegamento AS50 a 48 kHz quindi tramite l'SRC interno sfruttiamo questa opzione per avere anche il collegamento a 48 kg. Altre alternative sono ad esempio la scheda MADY sempre 64 in 64 out o la scheda USB di nuovo 64 in 64 out. Tra l'altro scusami la forma mi sembra di conoscerla è la stessa delle schede d'espansione della 9650? Esattamente sono le stesse schede che venivano installate all'interno delle 9650 che vengono tuttora installate all'interno delle 9650 possono essere riutilizzate all'interno di questi due slot. Altre cose disponibili sulla parte posteriore, quattro porte AS50 per il collegamento alle stagebox ognuna di queste consente il trasporto di 24 canali bidirezionali. Se andiamo qua giù troviamo due collegamenti denominati come Snake questo protocollo è un protocollo proprietario di Midas che si chiama HyperMAC e consente il trasporto di 192 canali bidirezionali. Queste due porte possono essere configurate in una forma ridondante per cui l'eventuale fallimento di uno dei due collegamenti sopperisce l'altro oppure possono essere configurati come due collegamenti indipendenti da 192 canali ciascuno. Il risultato totale di tutti questi collegamenti ci porta ad avere un numero di ingressi che è pari a 624 input e un numero di uscite collegabili che è 650. A fronte poi di una capacità di gestione del DSP? Chiaramente siamo abituati all'idea che il numero di input e il numero di output non corrisponde esattamente alla capacità del DSP che in questo caso è di 144 in, 120 out più i tre master, quindi LCR. Chiaramente da non trascurare i due alimentatori. Chiaramente è una caratteristica che deve esserci in qualsiasi console professionale. Chiusa la parte delle connessioni fisiche che abbiamo sul retro andiamo a vedere che cosa ci offre la superficie di controllo perché ci sono tante cosettine molto interessanti. Ovviamente la grande novità è il touchscreen da 21 pollici che Maidas ha accuratamente selezionato tra i vari disponibili nel mercato perché questo è quello in assoluto più luminoso. Sappiamo che Maidas come caratteristica ha quella di cercare o di mantenere la visibilità dei propri schermi abbastanza famosa per questo e lo era nella serie Pro per mantenere appunto la visibilità anche in condizioni di luce molto forte. In questo caso il monitor touch da 21 pollici mette a disposizione tra l'altro il monitor touch da 10 punti per cui posso andare ad esempio a fare delle regolazioni multiple contemporaneamente agendo su diversi parametri. Ora vi ho già svelato una parte di alcune cose che vi racconterò più tardi. Quindi oltre al classico intervento stile tablet no? Equalizzazione eccetera su cui nemmeno stiamo a sindacare abbiamo un multitouch insomma abbastanza completo. Invece controlli proprio fisici? Controlli fisici abbiamo 28 fader 12 pulsanti assegnabili per cui la funzione di questi pulsanti è assegnabile peraltro qui si possono creare una serie di pagine per cui l'utente può definire esattamente qual è la forma qual è la funzione e dove vuole avere i propri tasti. 28 encoder assegnabili di nuovo anche qui posso assegnare la funzione posso assegnare più funzioni definirne l'ordine e scorrere la lista delle funzioni tramite questi tasti. una caratteristica importante di questo menu è la possibilità di avere non semplicemente vedete in questo caso la funzione dell'encoder che è la soglia della compressione e il tasto è l'on off del compressore in questo caso tramite le frecce laterali posso andare a variare il parametro che controllo con l'encoder in questo caso del compressore se cambiamo il menu il gate ad esempio mette a disposizione la soglia il range ci spostiamo verso l'alto e troviamo la classica channel strip per cui l'esploso quattro bande dell'equalizzatore finalmente per gli utenti la consideriamo una novità la consideriamo una novità è una sicuramente apprezzata da chi prima combatteva con le freccine su e giù per cercare la banda tutti i controlli compressione e gate e ovviamente pump pot delay eventuale assegnazione al bus mono in questa sezione troviamo tutti i controlli invece legati alla parte di monitoraggio e alla parte di comunicazioni diciamo che la struttura di base è rimasta un po' quella della serie pro per cui di nuovo con la possibilità di avere il talk interno quindi il talk su qualsiasi bus all'interno della console un talk external che significa comunicazione verso il mio collega ad esempio verso una postazione remota vedremo in realtà una grossa novità sulla parte comunicazioni che non vi svello subito ma che fa parte delle grandi novità presenti in Heritage D certo lì in alto vediamo fanno sempre parte dell'esploso dei canali chiaramente questa è la parte di controlli high pass low pass trim gain attivazione della phantom power polarità e attivazione appunto dei filtri passa alto passa basso esatto mentre in basso a destra anche questa è una particolarità anche questa è una particolarità perché qui trovo costantemente assegnati i controlli del master del bus mono monitor A e monitor B perché è una particolarità in particolari configurazioni del layout dei fader come ad esempio se ne selezioniamo una che potrebbe essere questa i quattro fader più a destra che tipicamente vengono impegnati appunto per la regolazione dei master e del monitor in questo caso li sto utilizzando come a 4 WCA la possibilità di avere sempre sott'occhio e sotto mano la regolazione del master e dei monitor è estremamente importante addirittura se non mi accontento di avere l'encoder rotativo ma voglio controllarlo tramite fader i tasti change over mi portano su questa baia i controlli dei master e del monitor non mi servono più i fader riassumono la forma che dovevano avere nel contesto in cui erano stati definiti questo è importantissimo perché nonostante il numero di fader non sia estremamente alto però la gestione è molto efficiente per cui è inutile tenere qui dei fader che tocco poco ma essendo molto importanti ce li ho sotto mano molto rapidamente il change over alla fine è comunque un tasto diciamo di emergenza che in qualsiasi momento comunque ti permette di avere il bus controllabile sullo slider piuttosto che sull'encoder e invece poi lasciare operativamente quei 4 fader liberi che giustamente fanno comodo visto che sono 24 non sono pochi ma insomma non sono mai troppi i fader abbiamo visto abbiamo visto dico perché veniamo dalla demo di stamattina demo ufficiale a Roma la connessione delle cuffie ovviamente su entrambi i lati qui sotto monitor A monitor B che sono evidentemente la replica dei due bus di monitor la connessione per la chiavetta USB quindi importazione esportazione show e quant'altro e poi questi encoder che vediamo sulla destra io diciamo che ho esperienza sul pro è una cosa nuova anche questa rispetto agli encoder orizzontali sui fader questa è una cosa nuova e non ve l'ho svelata subito perché in realtà è una particolarità appunto di Heritage questi encoder sono assegnabili e posso riutilizzarli in diversi modi un esempio è quello di avere qui la mandata alle AUX del canale selezionato ad esempio in questo caso il canale 9 e così via dal touch vado a selezionare le diverse bancate i gruppi quindi cambio a blocchi di 8 mandate la vera novità consiste nell'avere questa funzione che si chiama one shot pot che in realtà scopriremo essere un 8 shot pot ed è uno dei nuovi modi di controllo dei parametri dei canali perché mi consente la selezione ad esempio di un parametro dal touch quindi toccando il parametro e sull'encoder ho la possibilità di andare a regolare il parametro che ho appena selezionato usiamo ad esempio un equalizzatore andiamo a selezionare il filtro la campana la frequenza il gain vi dicevo che era un 8 shot perché posso andare a bloccare momentaneamente il parametro su questo encoder il che significa che posso andare a costruire una sequenza di 8 encoder customizzati rispetto a quelle che sono le mie necessità ad esempio voglio andare a fissare gain frequenza e q della banda dell'equalizzatore e mi ritrovo qui i canali e qui mi gioco il jolly scusami perché è una cosa troppo troppo carina il fatto che volendo questo controllo sul parametro che voglio variare lo posso anche avere sullo schermo un po' tipo matrix diciamo un po' una versione alla Tom Cruise dei controlli perfetto la modalità minority report infatti tu hai visto spuntare una rotella alla pressione del tasto alla pressione dell'encoder selezionando il parametro e tenendo premuto ecco che appare la magica il magico controllo che a te piace tanto futuristico e questo mi permette il controllo del parametro scorrendo in questo modo quindi ruotando attorno questa ruota di controllo la cosa interessante è che quando mi trovo in un'area che è prossima quindi vicina al controller ho una regolazione rapida del parametro se voglio aumentare la precisione semplicemente mi allontano dal controller e in questo caso ho aumentato la sensibilità e quindi la precisione della regolazione che sto facendo lì sei sul manopolone manopolone lavoro di fino manopolino lavoro di grosso perfetto l'altra possibilità di questo manopolone è la possibilità di averlo bloccato di spostarlo in qualunque area dello schermo e di continuare ad averlo a disposizione qualsiasi sia la vista che io ho di fronte quindi posso continuare ad operare su altri parametri seguire il concerto seguire lo show quando ho bisogno di accedere a quel parametro specifico semplicemente lo vado a riprendere qui non mi serve più lo sgancio e continuo a lavorare bene allora con questa novità di tipo touch direi che per adesso abbiamo concluso e ci vediamo invece per la puntata successiva che è quella che ci permette di entrare nel cuore del sistema quindi ciao a tutti da Alberto e da Ivan ciao